Ora vediamo una cosa interessante, i coefficienti di Vanthoff. Fino adesso abbiamo applicato delle leggi specificando che la soluzione doveva essere ideale, ovvero che il soluto sia un soluto non elettrolitico, in modo che quando si scioglie nel solvente non si dissocia in più particelle. Però adesso dobbiamo provare a vedere come si può affrontare invece il problema per calcolarci le proprietà colligative con soluti invece elettrolitici, ovvero soluti che una volta sciolto in acqua si rompono in più particelle. E questo è il caso per esempio dei sali. Il sale più comune, quello che utilizziamo anche noi in cucina, è il cloruro di sodio, NaCl. È una molecola ionica dove c'è uno ione metallico sodio 1+, che si lega con l'egame ionico a uno ione non metallico negativo Cl-. Questa molecola sciolta in acqua si rompe, si dissocia, quindi da una molecola otteniamo due ioni, due particelle sciolte, che subiscono il processo di solvatazione, ovvero vengono avvolte da molecole d'acqua che le avvolgono secondo la loro carica elettrica, ovvero l'ione cloro viene avvolto dai poli positivi delle molecole d'acqua, ovvero i poli positivi sono i due idrogeni della molecola d'acqua H2O e quindi le molecole si dispongono in questo modo intorno all'ione di cloro. Mentre al contrario, nel caso del sodio, le molecole si dispongono con l'oropolo negativo, che è l'ossigeno, in quest'altro modo. In questo modo le molecole sono avvolte dall'acqua e non possono interagire, quindi non possono più legarsi, rimangono in sospensione. Quindi, una volta sciolto in acqua, il cloruro di sodio si scinde in due ioni. Questo meccanismo rompe il rapporto molare uno a uno, prima e dopo il suo scioglimento nel solvente. Quindi ho una mole di soluto prima di scioglierlo, avrò poi due moli di particelle disciolte una volta che si è disciolto, quindi cambia proprio il rapporto prima e dopo lo scioglimento. E questo ovviamente influenza le proprietà colligative, perché queste ultime dipendono proprio dal numero di particelle disciolte. Poi, ancora, può essere ancora più complicata di così, perché dobbiamo distinguere tra due tipi di elettroliti, quelli forti e quelli deboli. Infatti, se vi ricordate, ci sono alcuni elettroliti che si dissociano completamente e quindi sapendo il numero di particelle all'inizio, prima dello scioglimento, saprò esattamente quante particelle poi sono disciolte nell'acqua. E poi invece ci sono gli elettroliti deboli, quelli dove praticamente solamente una piccola percentuale si dissocia in ioni. E ovviamente questa percentuale cambia da sostanza a sostanza e quindi lì dovrò considerare anche la percentuale di particelle che si dissocia, quindi complica ancora di più le cose. Vediamo come possiamo fare distinguendo i due casi. Nel caso di elettroliti forti si introduce il coefficiente di Vanthoff per calcolare la reale produzione di particelle elettrolitiche nella soluzione. Quindi, per esempio, la variazione di temperatura di ebollizione equivale alla stessa regola di prima, K del solvente per la moralità della soluzione, però moltiplicata per un coefficiente di Vanthoff, che dipende ovviamente dal soluto che ci metto io, cioè da ogni elettrolita avrà il suo coefficiente, che va moltiplicato alla legge di variazione della temperatura di ebollizione. Poi facciamo la stessa cosa anche per la variazione della temperatura di congelamento, e ovviamente si prende la legge di prima e si moltiplica per questo coefficiente, che dipende sempre dal soluto che stiamo utilizzando. Stessa cosa per calcolarci la pressione osmotica. Alla legge di prima, ovviamente, si aggiunge sempre questo coefficiente. Quindi, nel caso che gli elettroliti siano forti, è facile. Basta moltiplicare le leggi già viste per questo coefficiente, che dipende dal tipo di soluto elettrolitico forte che stiamo utilizzando. Se invece l'elettrolito è debole, dobbiamo introdurre altri coefficienti che vanno ad aggiungersi a quello già visto prima. Infatti, il coefficiente di Vanhoff non è più un valore semplice che otteniamo dalla tabella, ma è questo valore, 1 più α per v-1, dove i, abbiamo visto prima, è il coefficiente di Vanhoff modificato per il particolare elettrolita debole. Poi, α è il grado di dissociazione elettrolita. Ovviamente, ogni elettrolita semplice avrà il suo specifico grado di dissociazione, che ricaveremo da specifiche tabelle. E V è il numero di ioni che si formano dalla molecola di soluto nella formula di dissociazione. E quindi, ovviamente, vado a considerare tutti quanti questi parametri per capire effettivamente, alla fine, quante particelle io ho dentro la soluzione. E le stesse leggi di prima vengono modificate dove, al posto di questa I, ci metto questo calcolo, 1 più α che moltiplica fu-1. Quindi, devo andare questa volta a trovarmi, su specifiche tabelle, i valori di α e di V per ogni singolo elettrolita debole che sto utilizzando in quella specifica soluzione. Però, come vedete, le leggi sono sempre le stesse, cambia solamente l'indice di Vanhoff che va aggiunto nella moltiplicazione. Facciamo questa esercitazione. Si calcoli il punto ebuloscopico di una soluzione con soluto elettrolitico forte. Si aggiungono 25 g di cloruro di potassio, KCl, in praticamente 800 g di acqua. Quindi abbiamo i dati, la massa del KCl è 25 g, la massa dell'acqua 800 g, ovviamente sono 0,8 kg di acqua, e poi il K ebuloscopico dell'acqua che abbiamo visto prima è 0,512 C per kg frattomoli. Dobbiamo conoscere la temperatura di ebollizione. Quindi troviamo sempre la massa molecolare della molecola di KCl utilizzando i dati ricavati dalla tavola periodica. Il potassio pesa 39,1, il cloro pesa 35,45, e quindi la rosoma è 74,55. Vuol dire che una mole di KCl pesa 74,55 moli. Utilizzo questi dati per calcolarmi le reali moli del KCl che mi ha dato l'esercizio. Quindi devo fare la massa del KCl fratto la massa di una mole di KCl e ottengo 0,36 moli di KCl che ci dà l'esercizio. Questo dato lo utilizzo per trovare la molalità che equivale alle moli di assoluto fratto la massa di assolvente. Quindi 0,36 fratto 0,8 kg di assolvente ottengo una molalità della soluzione di 0,45 moli per kg. Ora che cosa succede? Dobbiamo applicare la legge che tiene conto dei coefficienti di Vanhoff. Quindi abbiamo il nostro cloro e il nostro potassio che si dissociano in due singole particelle, cloro e potassio. Quindi da un tot numero di moli prima del discioglimento in acqua avrò esattamente il doppio del numero di mole moli. Quindi essendo il rapporto 1 a 2 prima e dopo la dissociazione, il coefficiente di Vanhoff in questo caso è 2. Quindi devo moltiplicare le stesse leggi di prima, però per 2, perché da una mole di soluto prima del discioglimento ne ottengo 2. E quindi per ogni particella di sale disciolto alla fine nell'acqua ne ho 2. Quindi la variazione della temperatura ebuloscopica equivale a I per K ebollizione per molalità equivale a 2 per 0,512 per 0,45 mi viene una variazione della temperatura ebuloscopica di 0,46 gradi centigradi. Visto che io so che l'acqua evapora a 100 gradi, aggiungo questa variazione perché il sale aumenta la temperatura di ebulizione e quindi alla fine ho che la temperatura di ebulizione di questa soluzione è di 100,46 gradi centigradi. Questo è solamente un estratto della lezione sulle soluzioni. Nella video lezione completa parlerò del concetto di concentrazione, del ruolo della pressione nell'assorubilità di una soluzione, della tensione di vapore, della salvatazione dei composti ionici e di tanto altro ancora. Potete trovare la video lezione completa, le soluzioni e tutto il corso completo La chimica facile sul mio canale YouTube e sulle mie pagine Instagram e Facebook prof Antonio Luiacono. Grazie